I finanziamenti bancari alle piccole aziende stanno arrivando, come avete promesso? I precari, quelli che non hanno la cassa integrazione, stanno avendo o avranno il sostegno che avete promesso? Per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, abbiamo esteso la contribuzione dello Stato anche ai lavoratori a progetto, cioè ai precari, quindi credo che questo sia un fatto molto importante. Lo Stato sta vicino ai suoi cittadini nel momento in cui hanno bisogno dello Stato. Invece per quanto riguarda il sistema delle banche, che ripeto è un sistema assolutamente più solido degli altri paesi, noi abbiamo messo a disposizione 10 miliardi di euro, soltanto due banche ne hanno approfittato e una di queste soltanto per le filiali che aveva nell'Europa dell'Est, dove si era pregevolmente ampliata. Le banche oggi sono in una situazione, il governo ha i fari accesi, tant'è vero che abbiamo stabilito di formare delle commissioni presso le prefetture per ascoltare le piccole e medie imprese e per eventuali nostri interventi nei confronti della Banca d'Italia che regola la situazione delle banche. Oggi che cosa succede? Che chi ha dei soldi in banca prende pochi soldi di interessi, chi invece ha bisogno di prendere soldi dalle banche paga interessi molto alti. Io credo che in questo momento gli istituti bancari stiano facendo degli utili molto elevati, arrivo a dire anche eccessivi. Quindi io credo che sia un dovere della Banca d'Italia, stimolata dal governo, di intervenire affinché le banche continuino a fare il loro mestiere, continuino a fare le banche, che è quello di sostenere l'economia, di sostenere i consumi e di sostenere chi rischia, chi investe, chi lavora, chi produce. Faccio un'osservazione al direttore che mi è venuta ascoltando la prima e ritorno sul fatto che questa crisi è in gran parte psicologica. Una grande situazione di negatività si è creata perché le imprese hanno avuto paura di continuare a investire nella pubblicità. I giornali sono vicini ad avere avuto meno il 40% di pubblicità. Questo è ciò che io andrò a dire domani sera agli imprenditori. Guardate a voi stessi se vedete che certi consumi, non di beni di primaria necessità, ma beni volutuari, sono calati nei consumi degli italiani. Perché voi vi siete dimenticati di continuare a sospingere questi prodotti. Quindi credo che veramente ci debba essere una volontà comune di ripresa, a partire dalle aziende che attraverso la pubblicità possono influire sui consumatori. Allora Presidente, ci stiamo avviando alla conclusione. Questo governo ha ottimi rapporti con il mondo cattolico. Oggi il quotidiano a venire la invitava ad una maggiore sobrietà. Stasera il Presidente della Conferenza Episcopale Bagnasco ha detto bene il richiamo alla sobrietà. Lei pensa di perdere per questa vicenda personale delle simpatie nel mondo cattolico ed eventualmente anche nell'elettorato cattolico? Io non credo perché quando tutti conosceranno la realtà delle due situazioni, veline e festa di compleanno, non potranno che prendere atto del fatto che non c'è stata nessuna attività negativa da parte della mia formazione politica del popolo della libertà, ma che anzi abbiamo cercato di rinnovare la classe politica e di dare spazio anche alle donne, e nell'altro caso che è stato un atto di amicizia verso una famiglia amica, che non aveva nulla di scandaloso, che non aveva nulla di men che pulito. Quindi io credo che una volta che la realtà sarà constatata, ci possa essere ancora un aumento della considerazione, che so che è già grande, perché stiamo avendo con il Vaticano e con la Chiesa Cattolica i migliori rapporti, per loro affermazione precisa, che mai abbiano avuto Vaticano e Chiesa Cattolica con un governo italiano. Presidente, per chiudere, io mi auguro che lei e sua moglie possiate fare i nonni ancora insieme, ma semmai la cosa dovesse invece prendere un'altra piega, si parla di una composizione prima di arrivare ad un processo, insomma, questo verrebbe comunque evitato. Io ripeto che non voglio ritornare su questa vicenza, che è una vicenda che deve restare nella dimensione privata, almeno su questo fate grazie al Presidente del Consiglio e lasciate che le cose private vengano gestite in modo privato. Auguri Presidente, grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.